Tutti entusiasti con il naso all'insù per ammirare l'affresco della Fata Morgana dentro la sala Monsignor Ferro del palazzo della provincia di Reggio Calabria i 53 turisti spagnoli provenienti da Valencia dove frequentano il centro di cultura e lingua italiana Giacomo Leopardi. Quest'anno la Calabria è stata infatti la loro meta in Italia e dopo Cosenza, Corigliano, Amantea, Paola, Sibari, Gerace e Stilo oggi tappa a Reggio Calabria e domani a Scilla prima di ritornare in Spagna. Accolti dall'assessore provinciale alla cultura e alla legalità Edoardo Lamberti Castronuovo, dal capo di gabinetto della provincia il prefetto Domenico Bagnato, tra gli specchi e gli affreschi dello scorso secolo di autore ignoto che ritraggono l'amore e gli scorci della via marina prima del terremoto del 1908 dopo il quale lo storico palazzo venne ricostruito ed il castello ruffo di Scilla, i turisti sono stati poi guidati nell'aula consigliare alla presenza del presidente del consiglio provinciale Antonio Eroi. La scuola ormai è aperta dall'89, sono 23 anni e io ogni anno organizzo un viaggio culturale in Italia in una regione, ogni anno in una regione diversa e ho sempre detto che non porterò mai i miei alunni né a Firenze né a Roma né a Venezia perché tanto la gente va già per conto proprio. Per cui quest'anno, non so, li ho portati in Piemonte, in Friuli che è la mia terra, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Umbria, nelle Marche, in Puglia, a Napoli, la costiera amalfitana, Pompei eccetera, Sicilia e quest'anno è toccata alla Calabria. La Calabria è bellissima, è stata per noi una scoperta perché abbiamo trovato delle cose originalissime e poi gente cordiale, veramente cordiale e io sinceramente riproporrò il viaggio culturale fra qualche annetto naturalmente ma senz'altro è da visitare. Una bellissima terra.